Torniamo alla musica, torniamo alla musica con una parte dello spettacolo particolarmente interessante ed intensa, con belle emozioni. Allora io chiamo sul palco un'amica, una persona fondamentale per la riuscita di questa serata, anch'essa vicino in quegli anni, a Gianni Fabio del Paradiso, a organizzare serate e quant'altro, Christine Johnson. Christine, grazie per la tua presenza questa sera, grazie per l'aiuto che hai dato a tutti quanti per organizzare questa serata. Ora ascolteremo una parte importante dello spettacolo, vi ho detto, con belle emozioni, con delle voci straordinarie e vorrei che tu ci dicessi che cosa ascoltiamo ora. Va bene, come avendo avuto una conoscenza strettissima con Gianni, quindi cercando di capire ciò che lui avrebbe immaginato, quindi ti chiedi di immaginare di organizzare qualcosa di particolare. Spero che siete stati bene stasera fino ad adesso e abbiamo preparato qualcosa di molto molto speciale e abbiamo presentato due brani. Uno è una violinista, quindi la chiamiamo qui, adesso è una sorpresa per tutti quanti. La violinista Desislava Kondova. Giusto per cambiare? Eccola, benvenuta. Benvenuta, Lisi. E il brano che lei suonerà si chiama Infinity, giusto? Sì, giusto. E in questo brano di che cosa voleva trasmettere? L'Infinito. Ma l'hai composto te, giusto? L'ho composto io. Allora, abbiamo preparato questi brani proprio per fare un regalo a Gianni Fabri. Prima Desislava con il violino e poi ascolteremo la canzone dal vivo. E poi abbiamo una cantante, un'altra cantante, ve lo presentiamo adesso? No, la presentiamo adesso. La presentiamo adesso, che è la nostra Fate, che ha preparato una canzone arrangiata da Andrea Felli, soprattutto solo per tassera, e si chiama The Power of Love. E vogliamo dedicare questi 15 minuti a Gianni Fabri. This is Lava Kondova. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.